Io ho lavorato per l'Italia, ho lavorato e lavoro occasionalmente per l'Italia, lavoro molto e ho lavorato molto per la Francia e devo dire che prediligo il tipo di lavoro che posso svolgere per la Francia. Confesso di non amare troppo il prodotto seriale per diversi motivi. Il rapporto lavorativo con la Francia mi consente di confrontarmi con storie diverse, personaggi diversi, ambienti diversi. Francamente non mi divertirei a lavorare sempre e soltanto sullo stesso personaggio che vive sempre lo stesso contesto. Mi piace cambiare storie, epoche, tecniche. Ogni volta che passo da una storia all'altra cerco di rinnovarmi, di cambiare un po' stile, sperimentare tecniche diverse. Non sempre la tecnica con la quale realizzo una storia è migliore della precedente, ma come ha detto giustamente Woody Allen una volta bisogna diffidare delle persone che hanno sempre successo. Vuol dire che oramai si sono appoggiate un po' troppo sulla routine, sul collaudato. A me piace cambiare. La cosa che mi piace di più in una storia è l'interazione tra i personaggi. Mi piacciono sicuramente storie mature, non amo le storie di supereroi, mi piacciono storie diverse, particolari. non è facile. Detesto lo scontato, il collaudato, il già visto. Sicuramente non è facile trovare delle storie così. Infatti mi trovo molto bene con lo sceneggiatore francese Pierre Macchio, con il quale ho creato una sorta di sodalizio, abbiamo fatto parecchie cose insieme. Con lui mi trovo particolarmente bene perché, per due motivi fondamentalmente, lavoriamo nella stessa direzione, quindi cerchiamo di dare spessore alle storie che facciamo. Lui nello scriverle, io ovviamente nel disegnarle, con un'attenzione alle atmosfere, alla psicologia dei personaggi, alla loro personalità, all'interazione che c'è fra i personaggi di una storia. L'altro motivo è che Pierre mi lascia un enorme spazio creativo. Nelle sue storie praticamente le descrizioni degli ambienti di ciò che succede è ridotto al minimo indispensabile. La regia delle sue storie, quindi la parte di spiegazioni dedicate ad uso e consumo del disegnatore, sono ridotte al minimo indispensabile. Basti dire che lui non fa neanche una descrizione dei personaggi di una storia. Io in questo mi trovo perfettamente a mio agio perché tutta la parte creativa, gli input che io ricevo, mi arrivano esclusivamente da ciò che accade e da ciò che si dice nella storia. Quindi la fisionomia che do ai personaggi la do non perché qualcuno mi ha detto di disegnarlo in quel modo, ma perché ciò che fa, ciò che dice nella storia mi porta a vederlo così. Il discorso è piuttosto complesso. Si fa un gran parlare della sintesi. Comincerei col dire che perché ci sia sintesi deve esserci prima un lavoro di preparazione, di analisi, altrimenti la sintesi è solo approssimazione. A questo vorrei aggiungere che la sintesi è una cosa anche strettamente soggettiva, non è detto che 5 segni sono meglio di 6, che 4 sono meglio di 3, che 3 sono meglio di 4. Personalmente come lettore, ma anche come autore, non voglio scendere al di sotto di una certa sintesi. Un disegno fatto con 3 segni personalmente non mi trasmette quanto un disegno che ha una componente descrittiva, ma asciugata del superfluo. Per quanto concerne la documentazione, io sono un cinefilo, da quando sono bambino che adoro il cinema. Ricordo che a 10 anni avevo già visto film come i sette samurai, il buio oltre la siepe, il posto delle fragole, dei film straordinari. Quindi non potrei lavorare a un fumetto con una rappresentazione approssimativa dei luoghi, dei vestiti, degli ambienti. In questa storia, per esempio, questa storia La Porta Ossielle, che tra l'altro è stata tradotta in italiano, esiste anche in italiano, sono soltanto due episodi, due volumi e in italiano si intitola La Porta per il cielo. In questa storia dicevo che è un polare, un giallo, si svolge tutta quanta nella campagna francese. Io naturalmente sono andato sui posti in cui si svolge la storia, prendendo una documentazione, studiando le varie location nelle quali si svolgono le varie fasi della vicenda. Ovviamente ci sono stati degli aggiustamenti, delle correzioni, delle aggiunte. per esempio questa casa che è abitata, disabitata, scusate, disabitata nella realtà, ovviamente nella storia accoglie queste ragazze. Diciamo che in questa storia l'ambientazione, i luoghi, avevano un'importanza fondamentale, perché la campagna d'inverno ha un fascino, un'atmosfera che non può essere ricreata inventando i luoghi. e quindi le costruzioni, gli ambienti richiedevano un'attenzione che ricreasse, che desse credibilità alla vicenda narrata. Per quanto riguarda i volti dei personaggi, qualche volta mi affido a volti di attori che cerco di metabolizzare per comunque modificarli, farli miei, qualche volta non riesce per una questione di tempo, però lo scopo è questo insomma. Per me è realizzare i miei progetti. Sicuramente per me il Carpe Diem non funziona. Forse col Carpe Diem ci si diverte di più, però si realizza molto poco. Grazie a tutti.